Susanna Bernardi, allora che cosa è successo a Gaza? Voi come mai eravate lì e siete rimasti bloccati? Perché? La nostra delegazione, che ha un nome molto importante, per non dimenticare il diritto al ritorno, era una delegazione con una missione politica per ribadire veramente a voce alta che non si tratta di un problema umanitario, quello di Gaza, ma è un problema assolutamente politico. Siamo rimasti bloccati al Cairo per quattro giorni, perché pur avendo tutti i visti ci mancava la scorta armata, mancavano degli accordi, dobbiamo dire che la Farnesina e la nostra ambasciata hanno fatto di tutto e dopo tantissimi colloqui, dopo quattro giorni abbiamo avuto questa scorta armata dei servizi segreti e quei 350 chilometri che dividono il Cairo a Gaza li abbiamo percorsi in un giorno e mezzo, soste di una, due, tre ore ai posti di blocco per avere la nuova scorta, traffico incredibile, blocchi, alle quattro scende c'è il coprifuoco e quindi bisogna fermarsi, insomma siamo arrivati il giorno dopo. Però devo dire una cosa, l'accoglienza, i sorrisi, quella gioia profonda che abbiamo sentito nei cuori e che era espressa dai sorrisi della delegazione che ci attendeva, c'erano i responsabili delle ONG, delle tante ONG che operano in Gaza e beh ci ha ripagato della fatica, del caldo, della polvere e di tutto. Ecco, sorrisi dai palestinesi, un po' meno dagli israeliani, lì la situazione non è che sia tanto simpatica, usiamo un termine forse pur inadeguato. Beh, diciamo che noi siamo, rimaniamo sconvolti, così mi successe quando andai in Cisordania, dalla forza, dal coraggio, dalla pazienza, da questa forza interiore del popolo, in questo caso di Gaza, che riesce a subire delle malversazioni, ma diciamo tranquillamente un genocidio quotidiano, con la voglia, con la determinazione ad andare avanti, loro non vogliono abbandonare. Che cosa succede da quella parte? Che succede? Beh, noi nei giorni in cui eravamo lì, un ragazzo di 18 anni è stato colpito, gli hanno sparato, un soldato israeliano gli ha sparato, mentre coltivava la sua terra. 20.000 contadini non possono raggiungere la loro terra, nonostante ci siano tutte le risoluzioni, gli accordi perché loro possano coltivare. I pescatori, noi eravamo al porto, sono rientrate due barche, sono un po' come i nostri gozzi, diciamo come misura, sono rientrate tutte piene di fori e di proiettili e la notte precedente 30 barche di pescatori hanno ricevuto spari, sono state sparate migliaia di pallottole, buttate 200 bombe in acqua, che chiaramente le bombe non solo fanno morire il pesce, ma creano delle onde tali per cui alle volte le barche si rovesciano. centinaia di migliaia di agrumi, di olivi, di mandorli, sono stati sradicati coi bulldozer, quindi mettiamoci in testa che Gaza sarebbe una terra florida, non è povera, avrebbe le coltivazioni, la pesca, una spiaggia meravigliosa, l'artigianato e un popolo che vuole lavorare, è che gli vengono tolte da sotto le mani gli strumenti e ragazzi che non possono andare a studiare, persone che muoiono perché non possono superare, non viene dato loro il permesso di andare in Israele a farsi curare, è una realtà quotidiana e noi siamo sconvolti però dalla forza di questo popolo. Grazie a tutti.